Volevamo dare il benvenuto al nuovo gruppo fan club Bresaola Ocean Team che si è formato per iniziativa di un gruppo di faccino rosi sul nostro blog e pare che tuo padre, malgrado le sue tendenze anarchiche, abbia accettato la carica di presidente e quindi mandiamo un saluto Beh, buona sapersi, ciao a tutti Ciao, a presto